SORRIVI SORRIVI FIVORI LA LINGUA E VIA ALÉ ALÉ ADESSO DALL'ALTO DALL'ALTO SEI PETTINATA? SI SONO A POSTO PERCHE SONO UN CASINO E LO SO QUI A CHE AL TECO SIAMO ARRIVATI? MILLE SEI OH OH CHE PAVURA C'ACC homepage Cos'MONO A ZUMATA C'AK PLEADO relating Grazie a tutti. Che altro, vuoi continuare a correre quando ti sembra di essere ferma? Sì, 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 ma perché mi aiuti così? Eh no, certo. Dovresti alzarti anche gli occhiali per farti vedere gli occhi, scusa. Male. Tanto questi occhiali non tengono niente. Come John Belushi nei Bruce Brothers. Ecco. Quando leva gli occhiali che fa lo sguardo fatale. Guarda che giriamo, guarda che giriamo, guarda come giriamo. Mi piace l'alpeggio qua? Io ando da lontano. Oh, bene. Mi ha fatto. Dove è che abitate voi? Io sono di Alessandria, cioè siamo tutti e due della provincia. Ma scusa, andiamo a volare di solito a Cecima, che è a Brignano Frascata, vicino a Tortona. Eh, infatti ve lo diceva il signore che aveva alla mia destra, che non so come si chiama. Allora, guarda, manine. Prendi qua, però attenzione a non tirare. Prendi anche l'altro. Prendi bene, bene, bene. Allora, adesso, ascolti me, tiri il sinistro e alzi il destro. Dai, ancora. Ok? Molto bene. E poi rimetti a posto, cioè, sin metterci in presa. Poi adesso, tiri. Vai verso quel paese, mi piace quello di me. E' serino. Eh, andiamo a dire. E' serino. E' serino. E' serino. Ok, vai verso il paese, eh. Come pazzo. Vai verso il paese. la telecamera la telecamera Vengono fuori di quei filmati che fanno paura, che sono anche il piano. Devo fare il fianco sinistro, ma sto andando ancora. Oh, bravissima! Hai volato qualche volta? No, no. Mai? No, è la prima volta. Stefano, buttali fuori tutti! Ok. Ma, qualche volta a questo punto, poi vanno subito a Matteo, e poi vanno subito a Matteo, e poi vanno subito a Matteo, esattamente. Buttali fuori tutti uno dietro l'altro, perché è ancora buonissima, e quindi bisogna sfruttarla. perché davanti c'è un po' di negro. Un po' a mano o un po' netto? Negronetto. Guarda, 90 gradi a sinistra e dai verso. Un caraggio è là. Un caraggio è là. avanti. Un carattere. Un carattere. Un carattere. Un carattere. Un carattere. Nel senso mai dove puoi. Ma voi non avete mai popolo qua sopra, non avete mai popolo qua sopra, non so se manca l'aria. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.